Ciao a tutti ragazzi e bentornati al mio canale Oggi ragazzi siamo qui sul campo della calce insieme a tutti gli Elis Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì super tedesca challenge a tema mondiale quindi andiamo a pronosticare chi vincerà questo mondiale tramite questa tedesca quindi ragazzuoli è il momento di cominciare let's go ovviamente come sempre va in porta il promettere del canale tedesco 97777 ragazzuoli e quindi per il limite dell'aria ragazzi venite dai fatti grosso fammi sta girata fatti grosso vai vai harry hai tirato così forte signori vieni vieni in mente Henry hey bello 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 vai dati vai ma tira bravo om quattro amico la francia e la germania ha battuto un po' di l'argentino torretta questa eh no no torretta torretta eccolo non lo sa neanche lui come la fa moto ahia dio ahia dio assento boom grazie andree vengo eccolo meno uno andrea nooooo nooo no Carrie nooo noooo nooo nanzi Omar non tirano mai più Bello! La palla! Dai Andri! La palla dove? Buona! Al mezzo! Andri, rinocciata! Non ho fatto! No! Vieni! Go! No! Ecco qua! Quota 3! Brasile vincente mondiale! Avete presenti quei bulli che vi trattano come minori? No! Ma perchè siamo inferiori eh! Guarda! Guarda cosa dice Enri! Enri cosa ne pensi? Cosa? L'avete visto? Guarda! Ma no! Fa molto! Muta il crudo retto! Go! Uno! Vieni qua vieni! In buco io Mirko! Va bene! Grazie! Signori! Penalti! Brasile! Lo cacciare fuori! Si la fa! Si la fa! L'Argentina! Si! Si è sbagliato il vigore! Si è il Brasile! Si è il giocatore! Vinicius Junior! Si! Boom! Oh! Vai! Vai vai! Ma non è la fa- Ma la sesso mio! 3 Tati Voglio battere un rigore a Tati Vai Tati 3 3 2 Dio santo ragazzo Mano Tati Mano Tati pro Noccata raga Vai Guardiamolo lo scuono Alza Vai Tati Tira Oddio santo Stavi venendo addosso Easy Go 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 Cazzo Finiti Guarda Henry Oh Porta Henry No 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 7 9 10 9 10 10 10 10 6 5 5 6 7 7 8 8 6 7 7 10 8 8 9 9 10 10 10 20 FIGORE TATI GOLE FIGORE Eccolo qui FIGORE TATI Oh questa è la finale La pressione sulle spalle del numero 7 E' PORTUGAL SI UMPO E' PORTUGAL E' PORTUGAL Devo abbandonare il gioco Se con il piacere La favorita va fuori E allora pari ai dispari Argentina PORTUGAL Sei pari dell'Argentina PORTUGAL in Brattini in porta Omba che ve lo carico oggi Quindi Go Vai ammar Moukoko Bravo Ma PORTUGAL Omba Omba Stato uno dei migliori della tedesca Non c'ho le sparte Francia, Germania, Argentina C'è lei Propriamo d'astuzia Propriamo d'astuzia io il tedesco Con questo non ci scendo nemmeno da letto col mancino Penalty Ma lo para, guarda Buona Ciao ciao Germania Francia Quindi Gala di rigori Su tre Francia Germania Amo Musiala sul pallone Amo Ale, Ale, Ale Ale, Ale Ale, Ale Bokba C'è Cap Amo Il pallone Drizma C'è 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 segno Oltranza Se l'hai vinto C'è 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 Il prossimo video Ciao 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 Ciao